aiuto no questa la dobbiamo riprendere perché ieri la scalinata il coach qui ha deciso che lasciamo le borse giù skip alto andate ritorno per partire però è bellissima questa scalinata caspita avevo le scarpette in macchina si allora eccoci qua monumento storico aperto tutto l'anno non so se rendo l'idea ragazzi noi partiamo